Cibo, natura e aggiungerei io anche qualità, siamo a Montepaone al Naturium di Giannis Groh dove ci sono sempre una quantità di iniziative. Oggi si parla di celiachia e se ne parla al modo di Giannis Groh. Buona giornata, oggi abbiamo la settimana, questa settimana è una settimana dedicata alla celiachia e quindi c'è la sensibilizzazione da parte di AICI che è l'associazione italiana celiachia che si è sempre occupata per quanto riguarda il tema celiachia nel divulgare quelle che possono essere eventualmente le sfaccettature dal cibo da utilizzare, da come cucinarlo, da come aderire eventualmente a questo circuito importante di informazione che danno in tutta Italia AICI. AICI in Calabria oggi è rappresentata dalla dottoressa nutrizionista Irene Cantaffa che sarà qui a disposizione dei nostri clienti per spiegare quelle che sono eventualmente anche le dinamiche di una problematica che è molto diffusa che è quella appunto della cibo senza glutine quindi per chi ha dei problemi di intolleranza alla celiachia stessa che purtroppo è una patologia appunto molto comune però oggi ci sono gli strumenti per poterla diagnosticare subito e soprattutto abbiamo una serie di alimenti oramai facili da cucinare e facili da utilizzare molti ristoranti hanno aderito a questa iniziativa quindi hanno nella loro cucina gli strumenti per poter dare la possibilità anche a chi vuole mangiare una pizza, a chi vuole mangiare un gelato ad avere questa certezza di essere sulla strada giusta senza glutine. oggi abbiamo una varietà di assortimento all'interno dei nostri negozi notevole con prezzi assolutamente modici questo è importante dirlo perché spesso si pensa che chi ha problematiche debba spendere un patrimonio no, abbiamo i prodotti senza glutine con prezzi normali quindi vi aspettiamo nei nostri negozi e oggi se volete venire ad informarvi c'è Teresa Irene che praticamente ha la possibilità di darvi la consulenza gratuito ovviamente. E quando c'è una battaglia importante, giusta e che di solito poi si vince ci sono le spalle grosse di Giannis Gros ma non è un po' pesante? Lo faccio veramente con grande passione perché amiamo fare queste cose, ci dà un'energia è vero che fatichiamo però allo stesso tempo ci ricarichiamo perché l'orgoglio di vedere le persone soddisfatte ci ripaga di tutto. Una specialista, la nutrizionista Irene Cantaff, infatti ha già guardato la mia pancia con sospetto ma oggi parliamo di celiachia. Mi dicono che la celiachia sia un po' un iceberg, forse solo una parte di questo iceberg appare. Esatto, esatto. I celiaci attualmente diagnosticati sono oltre 250.000 in tutta Italia e circa 7.000 solo in Calabria ma i celiaci potenziali potrebbero essere anche più di 600.000 quindi è importante, questa è una delle missioni della nostra associazione in particolare io oggi rappresento la sezione Calabria che è una delle 21 associazioni della Federazione Italiana Celiachia Nazionale e la nostra missione è quella di informare, educare sia la società in generale ma importantissimo anche la classe medica perché è da lì che arrivano le corrette diagnosi. Quindi io potrei essere celiaco senza saperlo? Sì, esattamente perché la celiachia è un camaleonte e si può manifestare in diversi modi e spesso può anche non manifestarsi quindi ci sono infatti anche soggetti asintomatici. C'è un opuscolo che dice i nostri progetti perché voi lavorate a 360 gradi. Certo, sì, noi cerchiamo di entrare in tutta quella che è la società quindi dalle scuole, le famiglie, siamo a disposizione dei pazienti celiaci, dei soci per migliorare la loro condizione di vita. Oggi c'è la partita del Catanzario, sono pronta a vederla con bevanda gassata, patatine e popcorn. Come dovrei vederla e mangiare contemporaneamente dal divano? Eh beh, la bevanda gassata se si tratta di acqua forse è ok e poi popcorn e lì c'è un po' il sale che non aiuta così tanto la pressione, soprattutto con questa temperatura, però almeno le cose che abbiamo nominato, visto che oggi si parla di gerichia, sono tendenzialmente tutte senza glutine. E i biscotti che sono qui all'ingresso del Naturium? Sono senza glutine e posso offrirne uno in diretta? Sicuramente. Ecco, lo prendiamo. Biscotti senza glutine, doppio gusto, quindi anche cioccolato. Quello semplice. Ah, ok. E allora, mentre io lo mangio, la dottoressa ci dice cosa sto mangiando in realtà e perché è utile per i cedieci. È un biscotto ovviamente senza glutine che troviamo qui nei negozi Naturium, che approfitto per ringraziare Gianni e tutta la famiglia Naturium per l'ospitalità. Il biscotto è uno dei tanti prodotti che ormai si trovano sul mercato, perché il mercato dei prodotti senza glutine si è notevolmente ampliato negli ultimi anni. Grazie. Grazie. Grazie a tutti.